Vogliamo giustizia e libertà per Murie e Semin, e per tutti i compagni turchi incarcerati dal regime di Erdogan. Dedico l'internazionale a tutti loro e a tutti i compagni che lottano contro l'imperialismo e il fascismo. Il fascismo non passarà! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti!